ben trovati alla rassegna stampa di fano tv buona giornata amici oggi è giovedì 29 settembre 2022 vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi prima di dare una lettura ai giornali come sempre con la cronaca locale il resto del carlino è il corriere adriatico ebbene vediamo la grafica e vediamo che oggi si festeggiano gli arcangeli i tre arcangeli sono le alte sfere del paradiso si festeggiano san michele gabriele e raffaele ebbene san michele lo sappiamo è venerato in tutta europa famosi i suoi santuari e quelli che delineano una linea retta dalla palestina su fino alla alla all'inghilterra all'irlanda ebbene abbiamo il la chiesa il santuario della sagra di san michele in piemonte e poi abbiamo san michele nel gargano in puglia e sam e san michel in francia è il patrono della polizia perché è un santo guerriero il santo che lotta contro il mare san gabriele invece annunciò a maria la grande la bella novella l'incarnazione del verbo è un po il santo della annunciazione quello che viene raffigurato in tutti i dipinti che rappresentano questo momento topico della storia della chiesa san raffaele invece è il protettore del matrimonio dei viaggi e dei giovani nella bibbia fu a fianco del giovanissimo tobiolo nel suo viaggio dalla siria a rajas un viaggio pericoloso che appunto aveva bisogno di un protettore comunque la bellezza degli arcangeli così come ce la immaginiamo da un un input verso l'alto verso la spiritualità celeste vediamo le previsioni del tempo le previsioni del tempo la grafica sulla della regione marche dimostrano che i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi al mattino ma con un rapido aumento della nuvolosità con piogge rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio i venti saranno tesi le temperature oscilleranno tra i 17 e i 24 gradi i mari sono mossi diamo un'occhiata anche ad un'immagine di fano come si presenta questa mattina uno degli aspetti centrali della città il pincio l'ingresso della città quello dominato dalla mole malatestiana di porta maggiore e del bastione delle nuti e qui non si vede ma alle spalle abbiamo l'arco d'augusto abbiamo un tratto della nazionale adriatica quella di viale gramsci che confluisce appunto nella zona di viale vuozi che poi procede verso pesaro il traffico è ancora limitato ma tra poco si alimenterà da tutte le persone che si recheranno al lavoro ci ho detto apriamo i giornali a cominciando dal resto del carlino sulla pagina di fano vediamo subito l'apertura si parla di una carenza di una carenza in merito alla nuovissima scuola di cucurano carrara quella che è stata inaugurata da poco l'anno scolastico è cominciato da poco quest'anno e ancora manca la strada di collegamento tra la scuola e la flaminia secondo anno gli stessi problemi per la primaria di carrara e cucurano collegare via dubce che alla flaminia la strada però manca ancora collegare questa fare questo collegamento è la richiesta di tutti i genitori e dei bambini che frequentano appunto la nuova scuola un intervento urgente per il caos che già ora si crea con tutte le macchine che arrivano nei pressi della scuola non c'è una grande disponibilità di aree per fermarsi per parcheggiare ecco perché questo itinerario che dovrebbe essere realizzato per mettere in collegamento più diretto la statale adria la statale flaminia con la scuola è necessario e quindi è un input verso l'amministrazione comunale di procedere a lacramente verso questa realizzazione cosa succederebbe dicono i genitori se dovesse passare un'ambulanza oggi c'è una mozione in consiglio comunale notti insonni a carrara la centrale si fa risentire sembrava che il rumore emesso quel rumore fastidioso della cieca emesso dalla centrale elettrica di carrara fosse diminuito in realtà non è così dall'inizio di settembre il sibilo è tornato a livelli precedenti il mese di agosto e quindi torniamo da capo non sono serviti le sostituzioni dei trasformatori che sono avvenute nei giorni scorsi ancora quel insistente sibilo noioso fastidioso sibilo che specialmente di notte non fa dormire è tornato e quindi bisogna intervenire e poi si parla della strada delle barche entro l'anno dovrebbero iniziare i lavori quante volte questa frase è stata detta la strada delle barche è un progetto in itinere da decine d'anni si può dire doveva essere realizzato molto tempo fa quando la cantieristica era il settore leader dell'economia fanese così non è stato si spera di farlo oggi perché la cantieristica è in rimonta e questa strada potrebbe servire molto alla cantieristica perché devierebbe il traffico dei grandi yacht che giungono appunto dai cantieri e invece che passare sulla statale adriatica per poi giungere verso viale battisti in zona porto potrebbe così deviare verso una zona più protetta più appartata i tecnici comunali rassicurano i residenti della zona del bersaglio ma mancano le risorse per riqualificare viale ruggeri per la ciclabile e poi vediamo un fatto di cronaca a fondo pagina accusato di perseguitare i vicini dipendente pubblico al giudizio avrebbe impedito loro di passare su una strada confinante si tratta di michele gambioli 38 anni fanese ex dipendente della regione ora al servizio di un altro ente pubblico il giudice lo ha rinviato a giudizio accogliendo la richiesta della procura è accusato di avere impedito ai vicini di passare con le auto su una strada confinante e lo avrebbe fatto più volte e in modi diversi con catene bidoni missive minatorie infilate nella cassetta delle lettere piantando anche cartelli con tanto di scritte diffamatorie è un'occasione accomodandosi in mezzo a quel tratto di terreno con un ombrellone e una sedia insomma ne ha fatte di tutti i colori per impedire il passaggio delle persone su quel tratto di strada ebbene lui non voleva che questo avvenisse e ha cercato di impedirlo ma ora dovrà rispondere del suo comportamento di fronte al giudice giriamo ancora la pagina e vediamo un fatto che è avvenuto a cartoceto un uomo ha tentato di incendiare il portone d'ingresso della sede della polizia locale patente ritirata era stata ritirata da poco da fuoco all'ufficio dei vigili un tentato raid incendiario contro la polizia locale di cartoceto e il responsabile era stato multato poco prima per guida in stato di ebrezza ma per fortuna all'interno dell'ufficio c'era il comandante Luca Renzi con un collega si è accorto subito di quello che stava avvenendo le fiamme sono state all'inizio nel loro sorgere subito spente e l'uomo è stato poi identificato e rintracciato grazie alle telecamere che lo hanno ritratto mentre accendeva il fuoco nella porta vediamo qui le bruciature che sono state fatte proprio a causa dell'incendio e poi vediamo, diamo notizia di un appuntamento diamo notizia di un appuntamento che è stato presentato ieri nella sede della fondazione Carifano domani alle ore 17.30 nella sala di rappresentanza della fondazione verrà presentato il nuovo libro di Dante Piermattei si parla dell'assedio di Fano del 1463 assedio intentato dal Duca Federico contro Sigismondo Pandolfo Malatesta un assedio che durò quattro mesi fu abbastanza duro per la popolazione fanese che cominciava a essere alle strette in quanto non poteva uscire dalle mura per fortuna a linee pressi c'era il mare quindi i rifornimenti venivano assicurati da Venezia un'alleata per quanto riguarda la signoria che dominava Fano in quel periodo siamo nel XV secolo, nel 1400 appunto ma alla fine il Duca Federico ebbe ragione e la sua vittoria decretò la fine del potere malatestiano nella città di Fano il Duca Federico era incaricato dal Papa Pio II mi sembra ma anche Sisto IV insomma siamo in quel periodo lì di ridurre alla ragione Sigismondo Pandolfo perché insomma lui era il vicario del Papa ma aveva cominciato così a prendere un po' delle iniziative per suo conto e a conquistare più territori del consentito ecco perché il Papa ha voluto renderlo alla regione e questo è un episodio non molto conosciuto della città di Fano è un episodio che però lasciò il segno perché durante l'assedio le cannonate del Duca Federico abbatterono l'attico dell'arco d'Augusto attico di cui ancora ci sono le rovine e quindi è un segno importante nella città vediamo ora le notizie che riguardano Pesaro vediamo che si parla ancora delle elezioni Fratelli d'Italia, Partito Democratico che duelli nei quartieri Partito Democratico vince, resiste a Villa Fastigi che è un po' la roccaforte del centro-sinistra testa a testa tra i Meloniani e i Dem ma la culla storica della sinistra regge il confronto nonostante il vento della destra per poco il segretario della sezione Salvatore dice una campagna elettorale effettuata porta a porta come sempre ha dato il suo esito positivo però serviva un candidato locale ecco perché insomma i paracadutati non è che attirano molto i voti degli elettori e intanto all'interno del Partito Democratico si continua a litigare e attribuire le responsabilità della sconfitta in questo caso vediamo che l'ex governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli se la prende un po' col sindaco Matteo Ricci anche lui ha le sue responsabilità ha dichiarato in questa intervista però queste responsabilità non vengono menzionate il governatore interviene sulla candidatura del sindaco alla segreteria del partito per il dopo Letta ha avuto responsabilità anche lui al vertice del partito nazionale c'è bisogno di qualcuno meno coinvolto nelle vicende, nelle ultime vicende ha detto Ceriscioli e quindi taglia un po' le gambe alla candidatura del sindaco Ricci il quale comunque continua per la sua strada e poi ieri si è svolto quell'incontro pubblico in piazza del Popolo a Pesaro dove l'archeologa Erika Valli ha spiegato un po' quello che è venuto alla luce in tanti hanno partecipato a questo incontro curiosi di apprendere nuove notizie sulla storia della città sono venute alla luce nuovi scheletri c'è anche quello di un bambino di pochi anni ci sono delle mura, delle strutture che devono essere identificate insomma la gente attorno chiede di scavare ma Lavalli risponde se fosse per me non mi fermerei al romano ma andrei ancora più sotto al periodo piceno che a me interessa di più sì perché poi abbiamo anche il periodo pre-romano di cui Pesaro è famosa per tutto quello che è venuto alla luce si pensi a Novilara che è lì a due passi e alla Necropoli che ha lasciato dei segni importanti nella storia del nostro territorio ebbene però i scavi saranno limitati purtroppo e tutto questo fa venire in mente un po' quello che è avvenuto a Fano due anni fa anche lì si è scavata a Porta Maggiore poi è stato tutto ricoperto e ora non ne sta più niente e nemmeno di quel travicolo di quel gabbiotto che è stato addossato a Porta Maggiore che nasconde l'entrata dei conicoli sotterrani che dovrebbero essere resi fruibili all'accesso pubblico ma ancora non lo sono procediamo oltre dal fango rinascono l'edicola e la farmacia a Cantiano un segno di tornare alla vita riaperta ieri la rivendita dei giornali presto toccherà quella dei medicinali e a breve altre attività si rimetteranno in marcia ebbene quando si ritorna a voler conoscere le notizie del giorno vuol dire e non si pensa poi ai problemi personali vuol dire che insomma la vita riprende e soprattutto è importante anche il ritorno in attività della farmacia perché poi i farmaci sono importanti per la cura delle persone a giudizio i presunti killer di Marcello Bruzzese due di loro scelgono il rito abbreviato in Ancona un terzo invece andrà al dibattimento in aula d'assise a Pesaro la prossima udienza è fissata al 14 dicembre si tratta dell'assassinio del delitto di Natale che tanto clamore ha suscitato a Pesaro un altro articolo di cronaca si parla della bancarotta fraudolenta di concetti e moglie che sono finiti a processo sono stati rinviati a giudizio ieri per il crack di una delle tante società familiari la TFA i difensori andremo a giudizio ordinario dimostreremo la loro estraneità hanno detto comunque si tratta di Riccardo Concetti l'imprenditore pesarese finito nei guai per il crack delle sue società ieri è stato rinviato a giudizio per la bancarotta fraudolenta dovuta al fallimento di una delle sue aziende della Galassia delle sue aziende ce ne aveva diverse e con lui la moglie Daniela Delfino e l'amministratore della società Fabrizio Santucci siamo convinti hanno detto gli avvocati difensori che questi personaggi sono siamo convinti che la posizione di Concetti di Concetti di Riccardo Concetti è estranea alla gestione della società insomma anche se quest'ultima apparteneva a lui giriamo ancora pagina e vediamo ancora una notizia di cronaca palpeggiò la cameriera in hotel il GIP chiede due anni di pena e dice che sono pochi respinto il patteggiamento proposto dai PM difesa l'imputato di 63 anni risponde di violenza sessuale su una diciottenne diamo un'occhiata ora al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano si parla delle spese che il Comune dovrà sostenere per il caro bollette salasso per le bollette elettriche per l'energia elettrica pensate che le spese del Comune per illuminare e riscaldare le scuole gli edifici pubblici oppure per sostenere l'illuminazione pubblica ebbene in soli tre mesi 1,5 milioni in più è la cifra che ha menzionato l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini la quale lancia l'allarme e dice che il bilancio dello Stato deve farsi carico in parte almeno di queste spese che il Comune non può sostenere al momento le ha coperte con l'avanzo di bilancio ma il prossimo anno sarà difficile che le risorse comunali possono far fronte a tutti gli impegni l'avanzo di bilancio è utile per arrivare a fine anno ma il problema sarà grave nel 2023 ha dichiarato e poi vediamo che c'è un piano di riforestazione il quale sta per partire 10 siti del Comune sono da piantumare è stato approvato dalla Giunta si tratta di terreni non urbani a destinazione agricola molti alberi verranno piantumati molto ossigeno verrà prodotto da queste piante e insomma il divario tra quelle che vengono tagliate e quelle che vengono piantumate che vengono piantate è a favore di quest'ultime e quindi insomma si può stare abbastanza sereni su questo fronte e poi ieri abbiamo avuto un incontro internazionale per quanto riguarda la città di Fano è stata ricevuta una delegazione della Sierra Leone la quale viene a scuola per apprendere le diciamo così le notizie di apprendere i modi di costruire la politica locale cioè si guardano le infrastrutture si guarda come il Comune di Fano procede ad assicurare alcuni servizi e questa delegazione sarà ospite per cinque giorni per un confronto tecnico vediamo qui la delegazione ospitata nella sala del Consiglio Comunale di Fano la settimana scorsa è arrivata con 16 rappresentanti questa delegazione e già in passato il sindaco di Fano è stato in Sierra Leone quindi c'è questo scambio di collegamenti multato per guida in stato di ebrezza tenta di incendiare la sede della Polizia anche il Corriere Adriatico da notizia di quanto avvenuto a Cartoceto mentre punta poi la sua attenzione a Cantiano dove ora si contano i danni provocati dall'alluvione 48 frane 50 attività produttive azzerate questo il desolante bilancio di quanto avvenuto aziende artigianali esercizi commerciali e sei sedi di associazioni intanto ieri il contentino ha aperto l'edicola lo abbiamo detto ieri Daniela Cerapica ha riaperto la sua edicola nel cuore di Cantiano l'aiuto di tanti volontari e il regalo di scaffalature e mobiglia dell'ex negozio Cardelli di Aqualagna le hanno dato le forze giuste per ripartire oggi invece riapre la farmacia sempre in piazza Luceoli ma nel locale adibito al prelievo e domani la banca in una struttura mobile per il momento per il momento si cerca appunto di tornare alla normalità seppure con difficoltà a Senigallia Confindustria nelle aziende alluvionate una presenza significativa dell'associazione degli industriali gli imprenditori non si fermeranno nonostante i gravi danni che hanno subito si tratta di una visita che hanno compiuto Alberto Marenghi vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione lo sviluppo e il marketing che ha voluto portare la sua vicinanza agli imprenditori e Pierluigi Bocchini presidente di Confindustria di Ancona si sono recati a Casine di Ostra dove hanno visitato le sedi di Isma Colore Cavallari Group due delle aziende colpite dall'alluvione quindi la vicinanza non solo a parole ma anche con i fatti dell'associazione a chi ha avuto dei danni ancora per quanto riguarda Senigallia vediamo una notizia di cronaca sorpresi e denunciati gli sciacalli dei rifiuti caricavano mobili e oggetti degli alluvionati quei mobili che erano stati ridotti in stato pietoso ma forse sono ancora recuperabili erano stati prelevati da tre stranieri in maniera abusiva dentro la zona rossa per fortuna questi sono stati identificati e bloccati dai carabinieri giriamo la pagina vediamo anche cosa dice il Corriere Adriatico per quanto riguarda Pesaro un patto con la multiservizi con marche multiservizi mappature polizie contro gli allagamenti siamo in autunno è la stagione più piovosa dell'anno e quindi il comune di Pesaro corre ai ripari per quanto riguarda la funzionalità dei sottoservizi delle tubature delle fogne e quindi c'è la polizia appunto delle caditoie cittadine l'assessore Enzo Belloni sta controllando i cantieri stradali gli operai cercano di stappare le caditoie che sono intasate troppi sono questi tombini le segnalazioni giungono dai quartieri si tratta anche qui di una segnalazione evidenziata da un commerciante si chiama Romagna il quale ha detto si rischia l'inondazione dei sottopassi e poi l'articolo che riguarda gli scavi di Piazza del Popolo di cui vediamo una panoramica nella fotografia il punto della situazione è stata fatta dall'archeologa che sta appunto coordinando gli scavi le ricerche che si stanno facendo insieme alla rappresentante della sovrintendenza di Ancona Maria Raffaella Ciuccarelli che è sul posto per appunto studiare quanto sta avvenendo alla luce ed ora parliamo di sanità parliamo di sanità perché si ricomincia con le vaccinazioni siamo in autunno la stagione dopo la pausa estiva potrebbe riaccendere il focolaio della pandemia e quindi opportuno vaccinarsi il tutto però comincia con una certa gradualità insomma ancora sono poche le persone che fanno riferimento agli hub e gli hub sono stati resi disponibili dall'Azur hub aperti una volta alla settimana facciamo solo al momento 50 vaccini al giorno parla il direttore Carlotti e denuncia il calendario delle disponibilità a Pesaro Fano e a Urbino l'hub di Pesaro che è stato allestito all'ex auditorium di Marche Multiservizi in via Toscana 38 è aperto cinque volte nel mese prossimo di ottobre il primo dalle 8 alle 13 il 7 dalle 8 alle 13 così come il martedì 11 ottobre il 18 e il 25 ottobre l'hub di Fano al Codma sarà aperto una volta alla settimana il mercoledì 5 ottobre sempre dalle 8 alle 13 il 13 ottobre il 22 ottobre il 27 ottobre infine gli stessi giorni in totale di apertura al centro vaccinale di Urbino allestito al bocciodromo di via Neruda 1 ebbene qui le aperture sono il 3 ottobre sempre dalle 8 alle 13 il 12 il 20 il 26 ottobre le date avverte l'area vasta 1 potrebbero però subire delle variazioni a causa della indisponibilità improvvisa dei vaccini oppure per esigenze che sono legate alla necessità di prevedere sedute aggiuntive per rispondere alle richieste se appunto quest'ultime aumenteranno e siamo in conclusione voglio solo segnalarvi un articolo che riguarda Urbino la pagina si riferisce alle elezioni soddisfatto l'8% di azione alleanze comunali vedremo parla così l'ex vice sindaco guidi dopo le elezioni il tracollo della Lega strano un suo ingresso in giunta appunto rappresentante della Lega dovrebbe sostituire il vice sindaco Massimo Guidi che conferma il suo impegno per la politica e questo è tutto per il momento anzi no voglio significarvi voglio farvi vedere la bella pagina che riguarda la vittoria del Fano Calcio ieri che ha battuto il Trastevere e poi ha cansocrato la denominazione della Tribuna a Bronco uno dei tifosi più amati delle tifoserie in nome del quale sono state attuate le riconciliazioni tra le parti e questo è veramente tutto Massimo Fagheti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 intanto vi auguro buona giornata grazie a tutti